Ciao, sono Barbara e ti do il benvenuto sul mio canale. Perché quando brindiamo diciamo cincen? L'espressione cincen arriva dalla Cina. In cinese cincen significa prego prego. Sembra che l'usanza di dire cincen durante il brindisi si sia diffuso in Italia grazie al successo di un'operetta di primi anni del Novecento intitolata la Geisha. Altri invece sostengono che a rendere questa espressione nota nel nostro paese siano stati gli ufficiali della Marina Italiana che l'avevano sentito e imparato nei porti orientali in cui sbarcavano. Spero tanto che questo video ti sia piaciuto e possa tornarti utile. Al prossimo! Al prossimo! Al prossimo! Grazie a tutti.